Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo Un uomo lo trova e lo nasconde Poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo Il Regno dei Cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra Ancora, il Regno dei Cieli è simile a una rete gettata nel mare Che raccoglie ogni genere di pesci Quando è piena, i pescatori la tirano a riba Si mettono a sedere Raccolgono i pesci buoni nei canestri E buttano via i cattivi Così sarà alla fine del mondo Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni E li getteranno nella fornace ardente Dove sarà pianto e stridore di denti Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero Sì Ed egli disse loro Per questo ogni scriba Divenuto discepolo del Regno dei Cieli È simile a un padrone di casa Che estrae dal suo tesoro Cose nuove e cose antiche Parola del Signore Siamo alla fine Diciamo siamo arrivati alla fine del discorso delle parabole E ancora una volta ci vengono proposte tre parabolette Parabolette nel senso che sono piccole, sono brevi Non che non hanno valore Che sono abbinate a una prima lettura molto bella Oggi quella del re Salomone Che è diventato re molto giovane Riceve da Dio una richiesta Un po' tipo il genio della lampada Dimmi che cosa desideri e io te lo darò E Salomone chiede la sapienza E Dio apprezza molto questo La capacità di ascoltare Dammi un cuore capace di ascoltare Dice Salomone Cioè di scegliere le cose giuste Di fare il bene Era diventato re Il bene del mio popolo Che bello eh Se avessimo dei politici così Che cercano il bene del popolo Il bene di tutti Ecco Ma questo vale anche per ciascuno di noi Anche noi abbiamo bisogno della sapienza Per scegliere ciò che veramente conta E nelle parabole Gesù Racconta di questo incontro L'incontro di una persona con un tesoro Un tesoro nascosto in un campo Trovi un tesoro e vendi tutto per comprare quel campo Trovi una perla preziosa Questo mercante di perle che va in cerca della perla preziosa La trova, vende tutto e la compra Cioè che cosa vuol dire? Scopri quello che vale veramente Cerca il tesoro della tua vita E per quel tesoro vale la pena di dare via tutto Un po' come ha fatto San Francesco Chiaramente non tutti possiamo fare come San Francesco e Madre Teresa Però che cosa vuol dire? Che se tu incontri il Signore Che è Lui il tesoro della nostra vita Se tu incontri Gesù Veramente per Gesù Sei capace di lasciare anche tutto Ma nel senso proprio Come dire Di amare Lui dentro i fratelli Per i fratelli Sopra ogni cosa Quello è il tesoro della tua vita Cioè quando Quando una persona Veramente incontra il Signore Incontra la bellezza del Vangelo Poi in un certo senso Non la ferma più niente Ed è disposto veramente a rinunciare a tutto Perché ha trovato qualcosa che vale di più Non perché è bello rinunciare Fare i sacrifici Soffrire No Perché hai trovato qualcosa Che vale più di ogni altra cosa Un amore più grande di tutto Che cosa può fare una madre O un padre Ma più spesso una madre Per un proprio figlio Veramente può fare di tutto Abbiamo visto madri Che per i figli Hanno rinunciato perfino la loro vita In alcuni casi Ecco È un po' così È l'incontro con un amore più grande E se incontri questo amore Allora la vita Diventa Qualche cosa di bello Di luminoso Anche se difficile E vedete Poi c'è un'altra parabola Un'ultima parabola Quella dei pescatori Anche questa era una scena molto comune Alla fine della pesca I pescatori prendevano i pesci E separavano Quelli che erano secondo la legge Quindi si potevano vendere E altri pesci che invece Non erano commerciabili Diciamo Perché non ammessi dalla legge Quindi separavano i pesci buoni Cioè i pesci Come dire Vendibili Dai pesci cattivi I pesci che nessuno avrebbe comprato E anche questo diventa per Gesù Un'immagine L'immagine della fine del mondo Alla fine Finalmente Ecco dicevamo domenica scorsa La parola della zizzania Ci sarà la separazione chiara Fra ciò che è cattivo E ciò che è buono Mentre qui è tutto Nella nostra vita È tutto mescolato Ma sarà solo alla fine E allora non dobbiamo avere paura Però ci dice Gesù Non dobbiamo avere paura Dobbiamo invece cercare il tesoro Dobbiamo andare dietro A ciò che veramente conta Dobbiamo avere quella sapienza Che chiede Salomone Che ci fa trovare Scoprire e seguire Le cose L'amore Che veramente resta Al di là della morte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti